Caltanissetta ha concluso il suo 2022 con l'ammissione al finanziamento sulla procedura negoziata dell'Agenzia per la coesione territoriale del Polo dell'Agro Alimentare Mediterraneo per la realizzazione del Polo Logistico ed Espositivo per un importo di 8 milioni di euro circa. Il Polo è stato concepito come cuore pulsante del primo parco mondiale dello stile di vita mediterraneo a servizio dell'intero territorio del parco e di tutti i partner pubblici, privati e del terzo settore. Il Polo è pensato come piattaforma promozionale e logistica dell'intera filiera agricola, agroalimentare e enogastronomica del parco. Il sito prescelto è quello dell'ex prefacem, bene sequestrato e confiscato alla criminalità organizzata trasferito al patrimonio del comune di Caltanissetta, in un'area complessiva di 76.200 metri quadri, allocato in prossimità della stazione ferroviaria incontrata a Xirbi, nodo centrale del sistema ferroviario siciliano. All'interno del progetto strategico del primo parco mondiale dello stile di vita mediterraneo un intervento importante è quello proprio della realizzazione del Polo Logistico ed Espositivo dell'Agro Alimentare Mediterraneo che si è pensato di realizzare presso un bene confiscato alla mafia che è arrivato al patrimonio del comune di Caltanissetta che si trova accanto alla stazione di Xirbi. Una stazione importante nell'asse viario che da Catania arriva a Palermo che sarà anche interessato da un'azione di rifacimento integrale e che consentirà di velocizzare l'arrivo e la partenza di persone di merci. Vi è stata l'ammissione a finanziamento in una procedura negoziata con l'Agenzia per la coesione territoriale che ha ritenuto interessante questo investimento con una somma di oltre 8 milioni e 100 mila euro. Alle mie spalle proprio si trova l'area di Xirbi, è il luogo dove sorgerà questo polo che considerate è un insediamento dove si facevano precompressi di cemento armato che invece verrà restituito alla comunità e che diventerà un grosso propulsore soprattutto per la creazione di nuovo reddito, nuovo lavoro e nuove imprese e a supporto di tutta la nostra agricoltura di qualità soprattutto piccola della Sicilia centrale. Quindi diciamo il cibo assume una valenza strategica e fondamentale perché viene ricercato dal mondo e noi dobbiamo offrirlo al mondo e quindi questa è una posizione strategica perché consente di fare sì che da questo luogo possano partire le merci in direzione degli hub che poi consentono la spedizione nel mondo ma dall'altro lato consente anche di far arrivare persone quindi per la parte espositiva chiamiamola così